Sidi, disinfestazioni, disinfezioni, deratizzazioni. In via di Vittorio 307-29A a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. La Sidi, azienda leader nel proprio settore, è sempre stata all'avanguardia, sia nel campo delle metodologie utilizzate, sia in quello dei prodotti impiegati, fornendo in modo costante un servizio estremamente efficiente ed efficace. La Sidi si occupa infatti di prevenzione e cura dei problemi relativi alle presenze indesiderate, con l'ausilio di tecniche aggiornate che prevedono lo sviluppo e lo studio di sistemi evoluti di difesa dagli agenti infestanti, con la progettazione di varie metodologie applicative. Da anni, la Sidi svolge la propria attività in molti ambiti, tra cui presidi per il controllo delle infestazioni murine, presidi per il controllo delle infestazioni da insetti volanti e striscianti, disinfezioni batteriche. Non esitate quindi a contattarci allo 02 24 41 28 98.